Quando si considera il peccato sotto questo rapporto, bisogna persuadersi che la misericordia di Dio regna persino nell'inferno, come dice Santa Caterina da Genova, perché mentre il peccatore morto in disgrazia di Dio meriterebbe pena infinita quanto all'intensità e quanta la durata, il Dio nella sua bontà ha voluto renderla infinita solo quanto al tempo, mentre riguarda l'intensità vi ha voluto porre un limite. Se la sola giustizia avesse avuto più severo corso avrebbe richiesto certamente maggior pena, altrettanto e con più ragione è delle anime purganti, le quali relativamente ai falli commessi in vita soffrono molto meno di quel che in realtà meriterebbero. In terzo luogo, la misericordia divina si manifesta laggiù allorché Dio apprevia la durata della pena di qualche anima, senza vedere i diritti della sua eterna giustizia, ed ecco come. In confronto all'eternità il tempo è un nulla, ma considerato in sé stesso non è altro che una relazione di atti intimamente concatenati fra loro. Ora, moltiplicando gli atti dell'anima, il Dio può in un istante dare a questa la sensazione di più secoli, come verosimilmente accadrà a coloro che morranno negli ultimi giorni del mondo e che dovranno espiare in pochi minuti tutte le colpe della loro vita. Egli è vero che tutte le sensazioni dolorose accumulate in sì piccolo spazio di tempo fanno crescere l'intensità del castigo in una proporzione spaventosa, ma quantunque la giustizia eserciti in ciò i suoi pieni diritti, la misericordia non cessa di guadagnarvi, perché così l'anima viene messa più sollecitamente in possesso della gloria divina. Secondo le rivelazioni da noi già citate, e molte altre ancora, pare che simi e abbreviazioni di pena siano concesse specialmente alle anime devote di Maria Santissima. Ed è così che si spiegherebbero i famosi privilegi della bolle sabatina, di cui parleremo quando dovremo trattare delle indulgenze. In quarto luogo la misericordia si manifesta nel purgatorio, allorché il Dio permette ad un'anima di uscire temporaneamente, per far conoscere il suo stato ai viventi e implorarne i suffraggi. Da che esiste il purgatorio, migliaia di anime hanno visto in tal modo abbreviare le loro pene, ed è certo gran segno di misericordia e il sospendere che Dio fa le leggi della natura, permettendo al defunto di venire a raccomandarsi agli amici lasciati su questa terra. E Dio non fa, né sempre né per tutte le anime, questa grazia, ma si può dire tuttavia che le apparizioni su questa terra, di poche di essi, giovano a tutte le altre, perché rianimando la fede nel purgatorio fanno sì che i fedeli si risveglino dalla loro apatia e dal loro egoismo ed implorino la ruggiata della divina misericordia su quelle anime penanti. Volendo ora dire qualche cosa sulla giustizia che Dio esercita in purgatorio, non ripeteremo qui ciò che già dicemmo cerca la severità di essa, ma studieremo solo una questione di non lieve importanza che ci si presenta, e cioè se Dio si tenga obbligato, per giustizia, ad applicare ad un dato defunto i suffraggi che per lui vengono fatti dai viventi. I teologi sono discordi su questo punto e i dottori scolastici inclinano a credere che Dio si sia in ciò riservato la più grande libertà. Quel che è certo si è che, almeno per quanto alle ingiulgenze, i sommi pontifici e la Chiesa, non esercitando più alcuna giurisdizione sulle anime del purgatorio, non possono essere ad esse applicate per modo d'assoluzione come ai vivi, ma solo per modo impreparatorio, che è quanto dire che la Chiesa, invece di rimettere direttamente quella tale o dall'altra parte di pena dovuta al peccato, si limita a pregare il Dio, onde accetti quell'indulgenza e l'applichi egli stesso nella proporzione che meglio conviene alla sua giustizia. D'altra parte i teologi mistici, inclinando verso l'opposto parere, insegnano che tutti i suffraggi che si fanno a favore di un dato defunto vengono a questo da Dio applicati. Pare infatti conveniente che Dio tenga conto delle intenzioni particolari di quelli che lo pregano, eccetto che ragioni speciali di giustizia non glielo vietino. Se di tali ragioni ve ne sono spesse, è cosa molto ardua a sapersi. Santa Francesca Romana dice che le preghiere e le buone opere che si fanno in questa vita per qualche anima del purgatorio, sebbene vadano subito a vantaggio di questa, per quel vincolo però di carità che le unisce tutte, servono anche a giovare le altre. Se poi siano offerte per un'anima che è già in possesso della gloria, il merito ritorna a colui che le ha fatte, mentre il frutto si spande allora su tutto il purgatorio. D'altra parte, in molte rivelazioni di santi, vediamo che la giustizia di Dio ha negato talvolta di applicare i suffraggi a vantaggio di talune anime per le quali si pregava. Dalla santa Maria Loque abbiamo veduto raccontare di quel nobile personaggio, già da noi menzionato, il quale, avendo commesso in vita molte ingiustizie verso i suoi soggetti, vedeva in purgatorio che i suffraggi fratti per lui venivano applicati dalla divina giustizia, a vantaggio di quelli che egli vivendo aveva oppresse e danneggiati. Bisogna quindi concludere che Dio, in tale maniera, si riserva la più ampia libertà, e che spesso, e forse anche sempre, l'anima per la quale noi preghiamo non è sollevata dalle sue pene, in quella misura che si crede, altrimenti basterebbe guadagnare un'illuggenza plenaria in favore di un'anima del purgatorio, o di celebrare in suo suffraggio una messa ad un altare privilegiato, per essere sicuri della sua liberazione, il che è in aperta contraddizione con quanto suol praticare la Chiesa, e con quel che dicono i Santi nelle loro rivelazioni. Non dobbiamo mai, dunque, per assicurarci troppo sulla sorte dei nostri cari defunti, ma pregare, pregare molto per loro, poiché è senza una speciale rivelazione, non potremo mai essere sicuri che essi non abbisognino più dei nostri aiuti.